e qua la situazione non è proprio delle migliori andiamo camaraten il 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 l'ho l'ïc quindi Grazie a tutti! Cazzo Che situazione di merda Nessuno sta difendendo B Merda Nessuno sta difendendo 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 Cazzo 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 Adesso mi sto riposando, se ne parlerà dopo le vacanze. Visto un tappo a fuori di stallo! In famiglia? Tu come l'hai passato? Visto un tappo a lui! come vanno male le cose in questa partita mia che è successo zico cavolo per non avere nulla da festeggiare può esserci brutta notizia per forza ah mi dispiace da un po' zico posso capire che non sia una cosa facile quanti anniato non ah mi negli ande Sì. Capito. Sì, complimenti, che ci sono andato all'età. Sì, è l'ufficiale dell'ordine di carica, ma non mi dà la carica bellissima. Sì, è antipreoccupare Zigo, fa come se mi fosse desgranchito. Chi è il cretino che ha detto il filo spinato qua? Sì. 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 L'italiani hanno evocato una struttura aliena. Sì. 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 madonna, i giorni ne avevamo pochi e pochi con tutte queste cose sono un burzo, cos'è questa cosa? sono gli illuminati e sarebbe bello se non si facessero proprio il bug quello che sentite agonizzare ragazzi è il me stesso di poco fa ma non si faccia Stanno attaccando disperatamente bigli italiani In qualche modo non si tratta Trazzo che Dax è notico io Maledetto stronzo Non ho consigli Non esistono consigli per cose del genere Dico Il dolore è sempre una cosa personale Non è che ti posso dare qualcosa Come consiglio L'unica cosa ti posso dire Tua nonna ha una certetà quindi Ha vissuto una bella vita penso Quindi che ha vissuto tanto Non tutti hanno la Diciamola per avere la fortuna di arrivare a quell'età Certo Se soffre Se per lei È una sofferenza So che è brutta da sentire solo dire Ma A volte è anche meglio che abbia una fine alla sofferenza Cioè Veramente solo Cioè la vita diventa solo sofferenza Tanto vale che abbia una fine Perché almeno 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 diciamo Il L'agonia finisce Finisce il dolore Che il B Direi che è fottuto Perché ormai sono dentro Posso solo fare una cosa adesso che sono entrati E inizio a flagellare con questo E inizio a flagellare con questo Perché so che sono la dentro quindi me ne approfitto E inizio Che inizio Che inizio Che inizio Oh ma dai non ci voglio credere ma stiamo scherzando dopo stiamo riprendendo comodamente che significa sto ho ripreso il bug dell'esecuzione ma che cosa diserzione ma pezzo di merda are you fucking kidding me game Il primo! What the fuck are you doing, you fucking idiot? Run! Piazzo! Piazzo! E abbiamo vinto Duke... Mi pare che abbiamo vinto... Uuuhhhh! Mortacci tu non mi ero accorto che ero in italiano Guarda ti dico la verità Onestamente mi sono concentrato sulla partita Non ci ho fatto caso Ah perchè comunque tendo a guardare i miei risultati in generale Al massimo mi focalizzo se c'è qualche nemico particolare tipo di MTO Qualcuno di abbastanza forte ma tendenzialmente non mi concentro molto sul gioco degli altri Prima di tutto perchè tendenzialmente ognuno ha un suo stile di gioco Anche se... Mio dio cos'è questa struttura aliene Anche se è un FPS ognuno ha il suo stile Secondo è perchè... E' sempre meglio concentrarsi sul proprio... Ma che cazzo non vedo di altro Cos'è questo cielo di merda Diciamo che è meglio concentrarsi sul proprio stile di gioco Così in linea generale Mio dio Questa struttura aliene non mi farà vedere niente E siccome non mi fido dei miei compagni Ne approfitto per costruire il filo spinato Negli altri due luoghi No passate testa di cazzo Non mi sfasciate il filo Non mi sfasciate il filo Ma che cazzo? Ma che cazzo vado accagellato Ti prego non passare da qua Perché ti sparo Ah vabbè sono ingegnere Riparalo Non mi fai un cazzare Non mi fai un cazzare Stanno arrivando i bastardi Stanno arrivando i bastardi E credi che ti faccia passare da qui ti sbagli di grosso, maledetto strozzo? A volte scappi di poi... la polvere del campo per nemici che stanno strisciando e quindi vieni di sparare... Oh my god, he's shit again! Ma ma fa ombra, guardate, fa ombra a sta cosa! Ma come è possibile? Ma che cazzo ha? Ci stiamo portando a un'altra dimensione, Fortnite vuole entrare in questo gioco La prima impedirà ad ogni costo Grazie! Grazie! No, però no... Cioè, questo bug è anche in grado di creare un'ombra, ma com'è possibile? Che cazzo è? Che cazzo è? Allucinante! Eh, kind of... Perchiamo il bobo Sì, non c'è nessuno. ma cosa mi ha ucciso l'aeronautica dannazione è solo bagalieno non mi fa vedere niente cosa è questa cosa è cosa sono cosa è il significato di questo ragazzi non so con quale miracolo sono riuscito a recuperarla porca puttana da dove arrivi tu da dove arrivi what the fuck is this shit ciao no benvenuto non è che possiamo giocare io non posso parlare perché vabbè unisciti alla mia partita no mi dice vuole il tuo plotone ci uniamo insieme qual è il problema io devo capire cosa sono queste direi che spuntano cos'è questo coso che rappresenta io poi se voi in chat sono su discord che spuntano non Grazie a tutti. 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 Con i nostri contrattacchi li stiamo respingendo di brutto. Paracare a tutti. bernardo che stanno parzialmente sfondando fianco destro e vabbè come diavolo devo prendere la mira se mi metti questo roito marrone cos'è la diarra del signore porca miseria scusate raga non era intenzionale quello ma come la devo descrivere uno nella prima guerra mondiale si vede spuntare questo a costo prisma qua che cazzo deve pensare che è un miracolo è piscio secondo me sono gli alieni che vogliono dirci qualcosa ok Alien Di nuovo questo schifo è apparso Ancora Ok abbiamo vinto Ok ho fatto un bel po' di medaglie Che strano ha partito Grazie a tutti